Perché lo sciopero di quest'oggi? Sciopriamo prima di tutto in nome e per conto dei lavoratori ma anche per i cittadini lecchesi ad avere una sanità pubblica senza tagli né tagli del costo del personale. Abbiamo ricevuto dalla direzione notizia che verranno tagliati 650 mila euro per costo del personale, non sono state attuate sufficientemente assunzioni per quanto riguarda sia il personale infermieristico sia il personale dell'assistenza. Siamo qui a chiedere a gran voce che la direzione apra uno sportello sullo stress correlato, la questione dei parcheggi ancora a limite non si riesce a capire se potenziano oppure no e la cittadinanza deve sapere che noi sciopriamo anche per loro per avere più assistenza e più personale, meno stanco ma più riposato sul posto di lavoro.